Sette medaglie d'oro e tre modondor. L'edizione 2020 del concorso Fontine è stato ospitato dall'Institut Agricole Regional di Aosta. A premiare i dieci finalisti è stato l'assessore all'agricoltura e risorse naturali Davide Sapinè, un'edizione quella di quest'anno voluta e organizzata dall'assessorato nonostante la pandemia. Sì, ci siamo soffermati un po' di tempo per decidere se fosse stato il caso o meno perché anche il Modon come tante altre manifestazioni era ovviamente in forza e poi si è voluto, si è cercato di dare un segnale, un segnale di ripartenza, di rinascita, un segnale che l'assessorato ha fortemente voluto dare. Ebbene se un segnale c'è stato da parte nostra ecco che la risposta è stata di quelle di cui uno non si aspetta, con ben 70 aziende che hanno risposto presente e questa è ovviamente la soddisfazione più grande. Una qualità eccezionale, qui oggi ci sono i premiati ma a detta dei giurati ecco un livello elevatissimo con differenze veramente minime tra coloro che hanno poi ricevuto il premio e coloro che invece purtroppo non l'hanno avuto. Grazie.